Se è vero che parliamo sempre di Bitcoin perché tutto sommato anche l'anno 2024 non è stato brillantissimo ma comunque non si può dire che sia andato male è anche vero che parliamo troppo poco forse della regina delle criptovalute cioè di ETH Ethereum che è tutt'altro che in una fase positiva e che nell'anno 2024 sostanzialmente non sta guadagnando nulla addirittura e ha pochi 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 punti pochi dollari dall'essere in perdita quindi dall'avere un anno 2024 addirittura negativo rispetto a Bitcoin ma soprattutto in questo frangente di alta correzione dei mercati delle cripto un po' più forte di quella che ci aspettavamo Ethereum è andato ad un livello molto delicato che se è rotto potrebbe addirittura indicare una fase di debolezza che potrebbe perdurare per tutto l'anno 2024 fino addirittura al 2025 Parliamo quindi della regina delle cripto per un'analisi di medio e lungo periodo dove andremo a cercare di comprendere effettivamente se questo scenario si andrà a verificare quali sono le cose che bisogna andare a controllare per capire se effettivamente lo scenario in questione è attendibile o può essere effettivamente accettabile ci sono tanti quesiti, tante cose che ruotano in una direzione opposta all'altra non è molto chiaro ma lo facciamo insieme e soprattutto andiamo a rispondere alla domanda cosa guardare su Ethereum e cosa poi aspettarci entro la fine dell'anno va bene ragazzi allora non so se l'ho ancora detto bene ciao a tutti bentornati in questo nuovo video lo ridico ecco quindi che andiamo subito a guardare il grafico di ETH ma poi inizierei anche dal grafico che guardiamo sempre sulla debolezza di Ethereum contro Bitcoin a un nuovo minimo in pratica non storico chiaramente ma degli ultimi n anni in sostanza il rapporto fra Ethereum e Bitcoin è a livello più basso circa dall'aprile del 2021 esattamente quindi dall'aprile del 2021 1260 giorni Ethereum ha perso forza relativa su Bitcoin da circa tre anni e qualcosa al momento non se ne vede l'ombra di un ripristino di forza e di forza relativa nei confronti di Bitcoin perché anche questo trend che era stato poi inficiato praticamente subito identico anche ai precedenti spuntone ribasso spuntone ribasso spuntone ribasso e anche questo addirittura molto più violento a dire la verità il fatto che sia stato più violento è tutto sommato positivo perché sancisce anche la fine di una fase che può essere identificabile come una fase ciclica importante circa 900.000 giorni di debolezza di ETH contro Bitcoin in realtà io qui ho messo arbitrariamente una data di fine di questo movimento che al momento è settata intorno ai 900 giorni circa per la metà di novembre ci siamo quasi manca in pratica un mesetto scarso ovviamente avendo una volatilità del 20% questo termine si può aumentare chiaramente di altri sei mesi ciò significa che come vi dicevo è una data arbitraria che non indica una fase di acquisto eventuale ma indica una fase dove andare a iniziare a guardare questo grafico iniziare a guardare questo grafico per poi agire in termini di analisi tecnica e non considerando queste durate certo è che andando ad assumere ad avere un minimo magari di Ethereum contro Bitcoin in queste fasi ed andare poi a vedere una reazione potrebbe essere perché no un momento in cui andare a tradare anche questo cambio Ethereum Bitcoin oppure semplicemente sguicciare una parte di Bitcoin in ETH se siamo in posizione long e via così ma questa data del novembre e fine novembre del 2024 riecheggia anche in questo grafico questo a dire la verità è il grafico invece sulla time frame settimanale quello di in pratica medio lungo periodo per quanto riguarda Ethereum questo grafico settimanale evidenzia in maniera chiara e distinta due cicli annuali al momento cioè il primo che è questo ciclo qui ho fatto uno terrificante lo rifaccio ecco il primo che è questo ciclo qui iniziato sui minimi di giugno dovrebbe essere 2022 finito intorno alla zona di agosto dovrebbe essere 2023 e poi è iniziato un altro che è questo attuale che ancora non è chiuso probabilmente il problema sta proprio qui il ciclo attuale annuale è iniziato non scusate ad agosto ma ad ottobre 2023 qui basta sbagliare di poco essendo un superficie settimanale e basta diciamo leggere qui non si vede insomma quindi è ottobre 2023 9 ottobre per essere precisi inizia questo nuovo ciclo annuale di Ethereum che tutto sommato resta un ciclo annuale rialzista al momento quindi comunque rimaniamo in un trend rialzista non è un trend ribassista certo non ha avuto senza ombra di dubbio l'esploit che si attendeva anzi tutt'altro anche perché questa fase di debolezza è il fatto che ad esempio dai massimi in chiusura settimanale sta a meno 41% mentre se andiamo a guardare il lasciato addirittura siamo a livello attuale a meno 43 44 ma siamo arrivati a circa meno 48 e mezzo per cento non è sicuramente la stessa performance di bitcoin che più o meno intorno a un meno 20 per cento rispetto ai massimi dell'anno 2024 quelli di marzo ma soprattutto c'è un dubbio è una questione ciclica importante su questo grafico qui probabilmente in maniera abbastanza chiara si evince la presenza di un ciclo da 119 giorni qui abbiamo avuto una scomposizione a 4 cicli sembrerebbe di questo nuovo annuale con un 105 105 ripetuto 119 questo finale attenzione perché qui siamo arrivati ad un punto molto delicato in quanto un'eventuale chiusura settimanale di Ethereum al di sotto dei minimi della chiusura dei 2.300 circa 2.296 2.300 dollari circa sarebbe estremamente pericolosa perché? Perché qui abbiamo un 1, 2, 3, 4 settimane di trend che si sono andate a muovere quindi sostanzialmente è iniziato con grande probabilità un nuovo ciclo da 100 giorni un trimestrale si definisce così e la chiusura al di sotto di questo livello in chiusura è pericolosa in quanto sancisce la possibilità e apre lo scenario che l'intera struttura trimestrale viri ad essere ribassista poi avrà necessità di avere una conferma nei giorni successivi una decina di giorni circa però ovviamente già la questione diventa molto critica molto pericolosa è chiaro che si vedrà da subito perché nel momento in cui la settimana dovesse andare a breccare questo ciclo effettivamente virerebbe al ribasso la rottura dei minimi di questa zona e di questa zona i minimi di shadow sarebbe in pratica il passo successivo quindi 2.150 2.127 in pratica la discesa a toccare i 2.000 dollari di Ethereum sarebbe dietro l'angolo se fa una cosa di quel tipo e soprattutto nei 10 giorni successivi non recupera vistosamente la possibilità che l'intera struttura ciclica viri al ribasso è molto alta questo cosa significa? significa in pratica che dopo una cosa del genere bisognerà attendere la chiusura della struttura ciclica iniziata su questo livello di minimo che è la settimana del 2 settembre bisognerà attendere la chiusura di questo ciclo prima di assistere a qualsiasi fase di ripresa vi faccio vedere il significato di un vincolo di natura ribattista per esempio sui cicli precedenti qui era iniziato il precedente ciclo semestrale o trimestrale lungo semestrale cortissimo di Ethereum e cosa succede? a un certo punto guardate la struttura si va a vincolare cioè assume le stesse identiche lo stesso identico atteggiamento di ora poi avviene anche una reazione guardate qui il doppio minimo è la reazione successiva che però non riesce a superare determinati livelli e quindi in sostanza poi questo up and down evidenzia che questa reazione era una reazione tecnica al doppio minimo per questo vi ho detto serviranno almeno 10 giorni per capire poi la reazione ma se la fa invece in questo contesto secondo me non farà neanche una reazione del genere eventualmente poi dopodiché il break effettivo vedete in close di questa candela sancisce il vincolo di questo ciclo che diventa ribassista che quindi per andare a sviluppare sviluppare un altro trend deve trovare la sua chiusura la sua fase di minimo che poi avverrà in sostanza nei giorni successivi intorno se non erro al 9 di settembre andiamo a vedere eccolo qui questo è quello che si va a sviluppare cioè dopo il minimo che si sviluppa nel 5 settembre 5 agosto poi effettivamente quello in close diventa il 9 di settembre attualmente cosa è successo si è ripristinata una fase di un nuovo ciclo che si sta sviluppando ma che non ha avuto nessuna forza sperata primo non è riuscito neanche a salire al di sopra delle due medie quella annuale quella semestrale la 26 e la 52 settimane in più una permanenza al di sotto di questo livello fa incrociare nuovamente le due medie mobili in questo caso in maniera negativa e vi ricordo che purtroppo l'incrocio di queste medie mobili è sempre stato segnale di ripresa di un bear market per quanto riguarda ETH è vero ci sono pochi pochi dati storici questo significa in sostanza che questi dati storici non sono significativi però sono gli unici che abbiamo e l'unica cosa che possiamo fare è valutarli poi ovvio servirebbero 300 casi cosa impossibile da avere però l'incrocio di bassista di queste due medie mobili in tutti i casi ha segnato la ripresa del trend ribassista quindi proprio del bear market in questo caso ovviamente e in quest'altro caso perché vi dicevo appunto sono due singoli casi quindi non abbiamo significatività statistica adeguata però i mercati finanziari di lungo periodo non si possono che analizzare in questo modo in quanto non esiste su questi asset finanziari e su tantissimi altri non solo sulle crypto la possibilità di avere dati oggettivamente significativi che non sono 10 dati ragazzi sono 3-400 quindi capite bene o prendiamo dati in serie storiche di SP500 dal 1900 che hanno anche una scarsa significatività significatività in termini anche di periodo storico perché poi alla fine ok i dati statistici ma se il mondo è completamente diverso hanno anche scarse significatività in sostanza non c'è via di uscita a livello statistico a questo problema sui mercati finanziari bisogna analizzare i dati che si hanno in possesso quindi l'incrocio di queste due medie che avverrà in pratica entro un paio di settimane è un segnale molto negativo tant'è vero che ETH doveva proprio in questa settimana cercare la rottura di questo livello e non ci è riuscita anche per questo il ribasso di bitcoin un po' di disatteso quelle che erano alcune aspettative perché è stato molto forte ancora non ha vincoli di sorta ne abbiamo parlato però bisogna attenzionarlo chiaramente soprattutto perché al di sotto di alcuni livelli ne ho parlato nella Academy dove abbiamo pubblicato ragazzi una serie di dati di una tabella che noi prendiamo in considerazione ogni mese sotto la quale sotto i livelli sotto alcuni livelli lo scenario di bitcoin stesso si va a indebolire mentre quello di Ethereum è già indebolito in sostanza in maniera anche importante allora ancora non siamo arrivati a chiudere al di sotto di quota 2295 dollari la settimana è ancora open e ci vorrà qualche giorno sto registrando oggi che è giovedì ma il video lo vedrete domani ragazzi però in pratica al di sotto di questo livello campanello d'allarme e dove andrebbe poi a dettare la chiusura io l'ho settata più o meno simile ai cicli precedenti anche qui è ovviamente solo un'idea ma stiamo parlando del 23 di dicembre ragazzi quindi questo significherebbe che l'intero quarter di ETH e a quel punto oserei dire difficilmente si avrà un quarter di ETH debolissimo e uno di Bitcoin fortissimo probabilmente sarà la prima volta che vediamo una cosa del genere questo scenario ho voluto mostrarvelo perché mette anche il pallino l'interrogazione anche sullo scenario di Bitcoin e soprattutto risponde a una serie di commenti che mi state facendo da un po' che io non è che non ignoro ragazzi che ignoro li leggo però non mi sembra ancora il momento di parlare di certe cose perché non mi piace vettare o spargere spauracchi laddove in realtà non ne abbiamo ancora necessità tutto qui però in realtà voi più volte mi avete inserito i commenti dicendomi molti stanno dicendo che siamo già entrati in un bear market attenzione bisogna fare attenzione bla 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 questa cosa su Bitcoin ancora non è così su ETH c'è un rischio maggiore però è anche vero che tante cose quest'anno sono cambiate in primis la questione degli ETF ragazzi lo avete notato dall'avvento degli ETF il mercato stesso il Bitcoin è completamente modificato anche negli andamenti che ha la volatilità non è la stessa degli anni precedenti gli atteggiamenti durante le fasi di volatilità non sono uguali assomigliano sempre di più alle commodity dei mercati classici piuttosto che ai vecchi mercati cripto per chi li conosce praticamente a memoria anche quando si dorme quindi è un anno di transizione ed è un anno che va interrogato così io lo so che molti di voi vorrebbero delle informazioni nette e chiare però purtroppo ragazzi a livello di analisi fondamentale c'è stato un change radicale nei mercati delle cripto sia su Bitcoin ma anche su ETH perciò andare a dare far finta che tutto sia identico secondo me non è proprio una genialata la stelta migliore è always trend is your friend quindi sempre trend is your friend ragazzi quella è l'operatività di natura tecnica di natura trader investimento trend is your friend se il trend va down bisogna uscire non si può stare su un trend del genere su Ethereum perché è pericoloso cioè non vuol dire che sia sbagliato perché ancora il trend di medio lungo è positivo però se andiamo a breccare questo livello eh ragazzi guardatelo un po' voi e fatevi due numeri è pericoloso poi non è che abbiamo la palla di vetro ma certo che stare su un trend che volge a essere a diventare un trend bear che insomma ribassista starci sopra inizia a mettere un po' d'ansia quindi giustamente bisogna poi agire secondo le vostre strategie e anche per questo che è molto importante la pianificazione dei trade ehm sia che sia investimento che trading è uguale e soprattutto è importante comprendere quelle che sono le regole soprattutto del trading di base perché vi aiuta nei vostri investimenti a non commettere errori madornali come appunto quello di andare contro trend l'errore più comune in pratica di tutti gli investitori e trader non professionisti eh allora questo concetto lo andremo a rivedere quindi c'è un rischio ed Ethereum in questo caso è più evidente su Ethereum che su Bitcoin ed è questo rischio qui però al momento ancora non si è verificato ci siamo vicini vediamo se ce la fa a reagire anche perché eh da Ethereum secondo me diciamo abbiamo informazioni anche sulle altre altcoin attenzione perché eh questo ehm tipo di eh pattern che si sta verificando a quattro candele ehm sul grafico a settimanale lascia anche uno spazio di eh atteggiamento reattivo cioè significa che se questa struttura si eh tiene insomma la struttura ribassista tiene e la settimana successive riprendiamo la via del decollo attenzione perché cambierebbe tutto qui di nuovo perché Ethereum deve andare a evitare questo impatto cioè l'impatto delle due medie quindi serviranno una che la settimana successiva o la l'altra ancora però eh tenete sotto stretta osservazione questo batterne facilissimo perché è una barra di quattro candele eh basta guardarlo i pericoli saranno ancorati all'interno di quella struttura quindi morale della favola il rischio c'è ancora non è stato identificato su bitcoin non si vede come su eth su eth si vede in maniera estremamente più chiara non credo che un ribasso di Ethereum fino a dicembre lascerà indenne anche bitcoin quindi sicuramente bitcoin agirà probabilmente in maniera meno imponente rispetto a eth però sarà da considerare a quel punto anche su bitcoin c'è però anche ancora la oscillazione delle prossime due settimane che può negare questa cosa cosa che io tra l'altro ragazzi aspettano perché vi ho parlato anche nei giorni scorsi la fase attuale ancora di bitcoin mi fa ben sperare va bene questa settimana già la prossima voglio vedere una reazione saremo qui sul pezzo e tutti insieme cercheremo insomma di sbrogliare la matassa cosa ne pensate state seguendo questo grafico e soprattutto chi di voi sta già ragionando alla possibilità che un bear market sulle altcoin su bitcoin sia già iniziato anticipando tutto quello che abbiamo visto negli anni precedenti sul mercato delle cripto scrivetemelo nei commenti confrontiamoci come sempre perché dal confronto ne esce buona cosa ciao a tutti buon fine settimana ciao a tutti grazie a tutti